Mi arrendo immediatamente, faccia attenzione che qui fuori ci sono tre miei colleghi, peccano marmotto e romolo, ho detto cobra, anzi adesso gli richiamo così può ammazzarli con tutta calma, e anche dalla signora Crawford qua sul letto mi frega il cazzo, mi fanno i sciocchi che vuole, basta che me leva sta pistola dietro la schiena che c'ho tanto, mamma. Ma che pistola? Questo non vi sono finto, sa? Ah, ma ancora voi? E che è? Ma è una fissazione, e levami sto coso che mi fa schifo, e basta. Mamma. Ma non si comprono sti cosi? Allo sexy shop e te vedrà, no? E quando li mettono? 185 mila lire. Frisca! E dice che con l'anno venduro a me andano pure di prezzo. Frisca! 185 mila lire per un pezzo di gasso! Dico, ma sono promessosi? Dipende.